Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà e la Giunta hanno approvato la proposta di project financing presentata dalla società SIAT, un progetto che prevede un investimento da parte del privato di oltre 1.500.000 euro che andrà a gara entro l'estate. Prevista a Torvajanica la riqualificazione di Piazzale Kennedy e della diacente area di sosta in Via Zara. Tra gli interventi nel programma la riasfaltatura dell'intera piazza con oltre 2.000 parcheggi gratuiti, la piantumazione di nuovi alberi, l'installazione di torrette elettrica scomparsa, nuove panchine e fontanelle pubbliche, l'implementazione del sistema delle griglie di raccolta delle acque piovane, un percorso ciclopedonale e un'area di sosta per camper. Verrà anche riorganizzata la viabilità delle strade interne con sensi unici di marcia per rendere più fluido il traffico e recuperare spazio per nuovi marciapiedi e percorsi pedonali. A Santa Palomba due parcheggi custoditi e videosorvegliati a pagamento riqualificheranno le aree di sosta in Via della Siderurgia e in Via dell'Ecologia. A Pomezia Centro verrà estesa la sosta a pagamento in Via Virgilio, Via Rattazzi e Piazza Bellini.